Emanuela, posso farti? Grazie, grazie. Hai visto che a te è Emanuela? È perché il film si vede al cinema nelle sale, ma quando si fa in piazza questa emozione è straordinaria. Che dici? Dico che il cinema, come ho detto anche prima, è condivisione, è gente, è popolo, è pubblico. Quindi io questo film è un progetto per il pubblico e voglio farlo vedere a tutti, questo film non parla di saprità. Brava, bravissimo, grazie. E tu sei una saggia in questo momento, sei saggia davvero. Bene, allora, il premio ce l'hai già benostrato in mano, però il signor Giuseppe Velozzi adesso ci legge la motivazione del premio Saffiter, prego. Un'attrice dimostratasi forte e tenace, ma al tempo stesso vulnerabile, nelle scene più drammatiche, lasciando trasparire tutta la sua umanità. Con l'augurio di proseguire una carriera da professionista, a Emanuela, a Nini, il premio Saffiter della diciassettesima edizione. E l'applaudio della piazza di Sant'Aveo.